La bella Vanessa incontrata è salita nel palco del concerto di Gigi D'Alessio. A Napoli, piazza del plebiscito, ha intonato se è bellissima. La bella conduttrice è stata colpita già nei giorni passati dai episodi di body shaming per ripiena di foto pubblicata da un settimanale ed è stata quindi ospite di Gigi D'Alessio che ha festeggiato i 2330 anni di onorata carriera. La bella Vanessa si è presentata nel palco, un abito tipicamente primaverile, azzardo a dire, che può esaltare la sua fragorosa, un meglio bellissima, intensa e quindi totale e quindi completa e Gigi D'Alessio, invece di riuscire a fare lo spiegelato di episodio, ha inviato la stessa Vanessa da stagione alla mossella tipica campana ed altri prodotti tipici proprio della regione campana. Ovviamente Vanessa non si è piena di niente e dà il sapore delle pietanze tipicamente campana. Bene, vi ringrazio per l'ascolto, il video termine al cuore, vi ringrazio per la visione, iscrivetevi, se vi va, mi raccomando, commentate. Se è chiaro che questo video non puoi rendere la frase di Gigi D'Alessio e di Gigi D'Alessio e di Gigi D'Alessio incontrato, vorrei informarvi per i prossimi. Dariando è tutto, Dariando è tutto, Dariando è tutto, Dariando è tutto.